Si ci voleva, questa era una partita non per gli esteti ma per chi guarda la classifica, dovevano arrivare i tre punti, sono arrivati con grande sofferenza soprattutto nel finale della gara quando stavamo compromettendo un risultato già acquisito però non dobbiamo guardare per il sottile perché la squadra ha sofferto il primo tempo un Catania che pressava in tutte le parti del campo, era un Catania entusiasta della vittoria col Bologna, entusiasta del ritorno di Lodi e di Bergessio quindi una squadra non facile da affrontare. Abbiamo mantenuto per fortuna la porta inviolata grazie anche a una bellissima prestazione di Sportiello nel primo tempo e poi nella ripresa hanno fatto un po' la differenza i nostri migliori calciatori perché Morales, Bonaventura e Denis che ha trasformato il rigore naturalmente sono giocatori che ci consentono da tre campionate a questa parte a non stare mai nelle ultime posizioni della classifica.